La forza del popolo, questo è il titolo del meeting di Laboratorio 2.0 che ieri a Ragusa ha acclamato su una migliore candidata a sindaco alle prossime amministrative. Un popolo che ha risposto numeroso all'invito che solo pochi giorni fa il portavoce su una migliore ha rivolto ad amici, sostenitori e simpatizzanti per partecipare a questo meeting di fine anno. Sta colma la sala dove almeno in 800 sono entrati anche per pochi minuti. Mi candido ha detto la migliore a sindaco offrendo questa proposta a tutti i movimenti e partiti dalla città pronti ad avviare un confronto che abbia come primo obiettivo il bene della nostra realtà immobilizzata negli ultimi cinque anni alla quale invece bisognerà dare un'iniezione di energia positiva e risollevare le sorti. Bisogna compiere, ha proseguito la migliore, questo passo del confronto il prima possibile per offrire ai concittadini un progetto chiare che rappresenti davvero la volontà di voltare pagine e accanto al simbolo del Lab 2.0 abbiamo, dice la migliore, anche quattro liste chiamala la città, Ragusa in movimento, progresso e futuro, cambiamola adesso. Chiamiamo a raccolta quindi partite in movimento e ha concluso la migliore perché la città deve rinascere e da parte mia porterò la vostra voce ad essere sempre più ascoltata e il vostro sostegno sarà determinante per vincere questa sfida.